Cinque giorni dopo la vittoria del titolo toscano a Prato, il gruppo podistico Parco Alpiapuane conferma e ribadisce la propria indiscutibile forza anche a livello nazionale. Storico podio infatti della società del presidente Graziano Poli, che ha conquistato un eccellente terzo posto a Genova nel campionato italiano master di corsa su strada 10 km. L'obiettivo non era affatto semplice da raggiungere per il team ecoverde di verde vestito, ma la compattezza di squadra, il cuore che ancora una volta gli atleti hanno messo in campo, pardon, in strada, hanno fatto la classica differenza, facendo sì che si realizzasse uno splendido risultato come il bronzo tricolore. Da sottolineare un aspetto poi che non va assolutamente trascurato, ovvero il fatto che questi atleti, nel breve volgere di soli cinque giorni, sono stati chiamati ad un doppio impegno di una certa rilevanza, poiché, come ricordavamo, erano reduci dal titolo regionale FIDAL di corsa su strada, inserito peraltro in una data piuttosto ravvicinata alla finale nazionale. Sono stati ben 37 gli atleti apuani che hanno tagliato il traguardo di Genova per un totale di 1.316 punti. Per la cronaca, il titolo italiano è andato all'atletica Paratico, che ha preceduto il fortissimo Casone Noceto e, come detto appunto, lo splendido gruppo podistico Parco Alpi Apuane.